Ecco Fabio, buongiorno! Ciao Lucia, buongiorno a tutti da Napoli. Siamo arrivati, ci hanno appena aperto le porte, soltanto per noi perché aprirà più tardi il luogo dove ci troviamo. Non è un caso che la mattinata oggi dei collegamenti di Bel Tempo si spera da Napoli cominci proprio dal suo santo patrono, da San Gennaro. Ma noi ci troviamo a fianco al Duomo e precisamente nel luogo dove possiamo mostrarvi il tesoro di San Gennaro. E oggi, guida d'eccezione, lo vedremo anche in alcuni filmati, è qui con noi Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Buongiorno! Buongiorno a loro, buongiorno a tutti. Siamo qui in diretta oggi per mostrarvi queste immagini. Stiamo parlando di uno dei tesori più preziosi al mondo. Addirittura, lo possiamo dire, Monsignor De Gregorio, più prezioso dei tesori della corona d'Inghilterra? Indubbiamente, sia per la quantità sia per la qualità delle gemme, che risponde ad un preciso progetto anche catechetico, potremmo dire. La scelta soprattutto è caduta su smeraldi, rubini e diamanti, in riferimento alle virtù teologali. Lo smeraldo rigoglioso come la speranza, il rubino infiammato come la carità e il diamante indistruttibile come la fede. Tutti i tesori si trovano in questo momento nel luogo da dove stiamo parlando e dove abbiamo portato bel tempo si spera. Perché? Perché molti di essi hanno, come dire, girato, nel senso che l'obiettivo era quello di condividere anche in altre città alcuni dei gioielli più preziosi, frutto della devozione a San Gennaro, ma normalmente si trovano rinchiusi dentro il cavo del Banco di Napoli. Sono sempre stati custoditi gerosissimamente, anche se nella nostra storia nessuno mai ha osato, neanche i conquistatori che di volta in volta sono stati qui a Napoli, così rubare qualcosa. In ogni caso, dal cavo del Banco di Napoli è stata una prima uscita a Palazzo Sciarra, Roma, per la Fondazione Roma, qualche mese fa, per lungo tempo ed è stata una mostra di grandissimo successo. Poi è seguita una esposizione a Parigi e poi sono ritornati qui, adesso, in esposizione permanente. Vogliamo descrivere alcuni di questi oggetti che stiamo vedendo insieme, sottolineando come poi tutto questo è frutto della carità, della devozione, della fede, di migliaia di persone, ma che si è accompagnato poi ad una carità concreta anche fuori da questo tesoro. Sì, innanzitutto bisogna sottolineare il fatto che sono oggetti non così messi a caso, semplicemente per il valore intrinseco delle pietre o del metallo, dell'oro soprattutto, ma finalizzati o al Santo o all'Eucaristia. Infatti gli oggetti più preziosi sono la mitra, famosissima, il collare d'onore del busto del Santo e la mitra del Santo e poi calici, pissidi o stensori. Vale a dire, tutto quello che legava e che lega profondamente San Gennaro è il segno del suo sacrificio del martirio al sacrificio del martire per eccellenza che è Gesù Cristo. Dunque, Eucaristia e San Gennaro, martirio di Gennaro, martirio di Cristo. Qualcuno potrebbe dire però perché tutto questo tesoro, questo sfarzo per un Santo? In realtà, a quello che abbiamo visto, si è accompagnato nella storia sempre una carità concreta, fuori per esempio da questi ori, in mezzo alla città. Intanto, sicuramente, la logica con la quale ci si muoveva nei secoli addietro per quanto riguarda gli oggetti del culto e della liturgia ovviamente era una logica di grandissimo impegno anche economico per certi oggetti che comunque dovevano esprimere la bellezza del paradiso, la gloria di Dio attraverso la gloria del suo creato, dunque delle pietre preziose che sono una delle cose più stupefacenti che la natura abbia messo a nostra disposizione. Insieme con questo però, la città percorre il sentiero del bello appunto attraverso l'arte e il sentiero del bene. Quindi fioriscono a Napoli, ma come in tantissime altre città peraltro, le opere di carità, quindi l'ospedale, gli incurabili, l'ospedale dei pellegrini, il Piumonte della misericordia per i poveri, la Santissima Annunziata per i bambini che nascevano e non potevano essere accuditi né cresciuti, il Banco di Napoli per venire incontro ai bisogni di coloro che cadevano nelle mani dello strozzinaggio o dell'usura. Insomma, sono tutte iniziative che danno un'idea del bene e del bello che camminano paralleli. Re e regine si sono sempre piegati a San Gennaro, come tutti? Sì, tutti. Sia i sovrani in un periodo quando nasce qui il tesoro di San Gennaro siamo sotto il dominio della Spagna, quindi sia i vicere spagnoli o i re spagnoli indirettamente attraverso i loro governatori o i governanti. Quindi le portelle d'argento e del tesoro sono dono di Carlo II nel 1667 dalla Spagna, ma poi quando si sono così succeduti i re della dinastia Napoleoni De Giuseppe Buonaparte prima e Gioachino Murapoi anche loro si sono prodigati per rendere omaggio a San Gennaro e poi gli stessi Savoia che sappiamo bene nel momento in cui sono venuti a Napoli avevano appena così realizzata l'unità d'Italia ma tutto questo creando anche un imbarazzante confronto e anche dissidio con la Chiesa a causa di Roma come ben si sa. Grazie allora Monsignor De Gregorio grazie davvero per questo buongiorno insieme Buongiorno a loro e a più tardi Ci vediamo infatti più tardi nel prossimo collegamento Lucia pronti insieme ad entrare e a fare il nostro ingresso all'interno della Duomo della città dunque la nostra settimana a Napoli comincerà proprio con San Gennaro ma torneremo sui passi sulla visita che Papa Francesco ha fatto proprio qui a Napoli a pochi passi da qui ci vediamo più tardi vi aspetto a dopo e buona giornata buona mattina da Napoli Grazie Fabio non poti vincere